E' cresciuto nel settore giovanile atalantino, quindi ha maturato esperienza prima nel Perugia e quindi nel Pescara, per poi fare il ritorno alla casa madre e mettersi a disposizione dell'Atalanta Under-23 del tecnico Francesco Modesto. Emanuele Jabua ha giocato sette anni nel vivaio nero-azzurro, tante partite, tante soddisfazioni, tanti trofei vinti. Su tutte, due sono state le vittorie speciali. Belli tutti perché si sta molto bene qua, la Supercoppa, lo stadio, tutte e due, tutte e due fantastici. Oggi è in forza all'Atalanta Under-23. L'importante è fare bene perché non è facile confrontarsi con le altre squadre che sono già tutte pronte, così stiamo facendo un bel campionato e speriamo di continuare così perché abbiamo le potenzialità di fare molto bene. L'Atalanta Under-23 vanta la rosa più giovane del girone A. Si sente la differenza d'età con le altre squadre? No, diciamo che all'inizio lo sentivamo perché si vedeva anche dai risultati. Poi piano piano, lavorando, lavorando, siamo arrivati agli stessi livelli, quindi non partiamo, non guardiamo l'età. Si vede tutto in campo. Dopo la sosta forzata a causa della nebbia che ha impedito la disputa della partita casalinga contro il Renate, i nerazzurri di Francesco Modesto sono attesi domenica dalla trasferta a Vercelli. È un impegno importante come tutte perché tutte le squadre sono preparate, ci aspettano perché vogliamo fare la partita, quindi andiamo lì convinti di fare il risultato perché abbiamo tutte le potenzialità di farlo. Ma che partita si aspetta Emmanuel Jabua? Tutte le partite sono quasi simili, quindi andiamo lì a fare il nostro gioco cercando di interpretarla bene, partire bene e far risultato è qualcosa più importante. Grazie a tutti.